Nuova incredibile scoperta nel quartiere servile di Villa Civita Giuliana a Pompei, un'ulteriore stanza amplia questo importante sito archeologico. La villa venne indagata scientificamente nel 2017 quando fu strappata agli scavatori clandestini grazie a un accordo tra il parco e la procura della Repubblica di Torre Annunziata. È un ambiente noto per la sua incredibile conservazione, contiene anche un letto, attrezzi da lavoro e quello che sembra un telaio, forse di un altro letto smontato. Si riconoscono inoltre ceste, una lunga corda, pezzi di legno e una sega con lama. Volge quindi al termine il finanziamento per gli scavi nella villa di Civita Giuliana, ma il parco di Pompei insieme alla procura hanno annunciato di voler proseguire le indagini. Il ministro della cultura Gennaro San Giuliano si è recato nell'antica città per un sopralluogo, poiché i punti da chiarire sono ancora tanti, non solo a livello scientifico ma anche in termini giuridici. Siamo fuori la città di Pompei in una villa suburbana, per anni qui sono stati fatti degli scavi clandestini con enormi danni per il patrimonio, poi l'intervento del parco archeologico insieme alla procura della Repubblica, da alcuni anni stiamo scavando sistematicamente questi ambienti. Gli ambienti dei patroni ma anche degli schiavi come questo qua dove troviamo le brandine, gli attrezzi, gli oggetti di vita quotidiana, tutto conservato come se fosse una fotografia di un mondo tramontato grazie alla tecnica dei calchi. Oggetti deperibili come legno, tessuti, ma anche le vittime a volte dell'eruzione lasciano un vuoto nella cinerite, nel suolo. Questo vuoto può essere riempito con il gesso durante lo scavo ed ecco vediamo riemergere dal suolo le forme degli oggetti e a volte anche le vittime.